Il corso di formazione che stiamo svolgendo è il corso di formazione per i preposti, così come previsto dall'accordo Stato-Regioni. Sono tutti molto attenti a quello che è la loro figura per le loro responsabilità, sia verso quello che riguarda i lavoratori, sia per quello che riguarda i datori di lavoro e le figure di licenziali. Si stanno affrontando un po' le figure e i compiti del preposto e poi si analizzeranno i rischi che bisogna adottare e gli obblighi che sono relativi alla loro funzione per mettere in condizione di operare al meglio nell'aspetto della sicurezza.